A Dottale delle piazze hai deciso di prenderti carico di alcune zone per lasciare una città migliore ai tuoi figli, ma un po' a tutti i figli di questa città? E niente, noi come azienda abbiamo deciso di investire nella comunicazione aiutando la nostra città, chiedo scusa un po' per la voce ma vengo da un periodo un po' particolare, quindi siamo contenti, siamo felici perché penso che è una nostra città meravigliosa, io amo questa città e credo che noi dobbiamo essere il primo esempio con i nostri figli. Sono convinto che attraverso questi atteggiamenti, questo modo di fare, noi se tutti insieme riusciamo sempre a fare qualcosa di più per la nostra città, riusciamo ad avere sempre più giovani che vivono la nostra città.